Il fondamentalismo è una malattia di tutte le religioni e noi cattolici ne abbiamo tanti che credono di avere la verità assoluta e sporcano gli altri con la calunnia e la diffamazione e fanno male. Papa Francesco sul volo di ritorno a Roma da Bangui risponde a chi gli chiede se i leader religiosi devono intervenire di più per fermare questo pericolo, non per fare politica ma con la predica dei valori veri, la fratellanza in Dio, la tolleranza, la convivenza, l'amicizia. Per questo ha pregato nella moschea e ha fatto salire l'imam sulla Papa Mobile. Piccoli gesti che faccio perché c'è un gruppo che si dice cristiano ma è molto violento, non è l'Isis, è cristiano. Anche l'Islam ha tanti valori aggiunge rispondendo ad un'altra domanda, la preghiera, il digiuno. Non si può cancellare una religione perché ci sono alcuni o molti gruppi di fondamentalisti. Le guerre fra religioni sempre ci sono state nella storia e anche noi cristiani ne abbiamo fatte e dobbiamo chiedere perdono. Poi parla dell'Africa e della sorpresa di una folla gioiosa con la capacità di far festa con lo stomaco vuoto e un grande senso dell'accoglienza per la felicità di essere visitati. Amo l'Africa perché è martire dello sfruttamento delle altre potenze, spiega. È il continente più ricco di risorse naturali ma non pensano ad aiutarlo a crescere. Tra i temi toccati dal Papa nella conferenza la critica ad un sistema economico che ha al centro il dio denaro e permette che nell'ospedale di Bangui i bambini muoiano per malaria e malnutrizione. Quindi la conferenza COP21 sul cambiamento climatico alla quale guarda con fiducia perché la maggioranza di chi è a Parigi ha coscienza che siamo al limite di un suicidio dell'umanità. Poi la corruzione della chiesa che è stata denunciata per primo da Benedetto XVI e il nuovo caso Vatilix. Infine il falso problema dell'utilizzo dei preservativi nella lotta all'AIDS quando quelli importanti sono la malnutrizione e lo sfruttamento delle persone. Il prossimo viaggio in Messico dove toccherà città del Messico il Chiapas, Morelia e Suida di Juárez. Grazie. 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 Grazie.